Un corteo in forma sommessa ma lo spirito del messaggio celestiniano di perdono e fratellanza riecheggiato in maniera, se possibile, ancora più flagorosa. L'edizione 2016 della perdonanza verrà ricordata come quella del lutto e della vicinanza con le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. L'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, ricorda a tutti quale deve essere lo spirito con cui i fedeli devono approcciarsi al primo giubileo della storia. Il messaggio di Celestino sta nello spalangare il nostro cuore al perdono e il perdono rende transitabili le vie del rapporto interpersonale, quindi del dialogo, del confronto costruttivo, perché dove cadono le frane dei conflitti, dei rancori, lì non si è più capaci di incontrarsi. Silenzio e rispetto hanno contrassegnato il passaggio del corteo della bolla. Il pensiero di partecipanti e tutti coloro che hanno assistito al passaggio della dama era rivolto alle popolazioni di Amatrice e tutti i comuni e frazioni devastate dal sisma del 24 agosto scorso. Questo è un corteo listato a lutto. È il dolore di una città che attraverso la municipalità e attraverso anche le sue rappresentanze storiche e istituzionali viene manifestato in forma commossa e sommessa anche. Quindi un corteo che in maniera del tutto silenziosa, con i gonfaloni listati a lutto, appunto raggiunge la basilica di Santa Maria di Collemaggio per dar luogo a quello che è l'appuntamento annuale del giubileo aquilano. È un po' come quello del 2009. È stata un'edizione. Noi abbiamo fatte tutte. L'Aquila ha sempre fatto in tempo di pace, in tempo di guerra, in tempo di assedio, in tempo di terremoto. Ha fatto anche oggi che siamo avvolti nel dolore. 50 chilometri da qui si stanno ancora scavando fra i maceri per un avvenimento, per una tragedia identica alla nostra che ha riaperto la nostra ferita. Io l'ho sentito durante il corteo. Nel 2009 le persone piangevano durante il corteo perché si riconoscevano e così via. Adesso c'era una mestizia terribile. Proprio si respira questa cosa.